Il mio nome è Lorenzo Mammi Io sono professore di filosofia na USP e scrivo anche di arte e di musica e, in realtà, quando sono convidato per Ari e per Nelson la prima domanda che durò un po' tempo è quello che devo parlare, in realtà dato questo corrigo, che relazione posso stabilizzare con il tema e, dopo, io pensavo che, magari, la questione fosse justamente il assunto, cioè, il problema fosse, di fatto, il assunto è una conversa che con il Nelson, principalmente, abbiamo già già molto tempo qual è la relazione dell'arte con questo? qual è, di che mani possiamo juntare queste questioni urbani di escala tão grande che coinvolgono processi sociali, urbanistiche, così importanti, con il lavoro artista, di una maniera che non sia forviante o di un lato o di un altro, di una maniera che non comporta di una estetizzazione del problema che va molto além del problema estetico, di una submissà a arte, a commentare di qualcosa che non le pertence direttamente. E come, di fatto, questa è una questione che il Nelson Ari ha affrontato desde la artecità. E ha sempre dato certo, ha creato trabalhos importanti, ha creato una discussione importante, sempre con questo desconforto che apparece molte volte, la tentativa di juntare gli discursi, molte volte sempre la defesa del artista di difendere la sua propria autonomia, il problema di non creare una expectativa che il artista risolvere quest'altro che non le dà rispetto, il problema della scala, che è una scala molto difficile in generale per la arte, perché è una scala enorme. l'artista ha difficoltà di lavorare in scala che va molto all'interno del limite perceptivo, a non essere in termini di spazio mental, come nel caso del Nelson, ma anche non è un spazio urbano, è un altro tipo di spazio. che è un tema, è una cosa che mi piace, particolarmente. Quindi voglio prendere molto rapidamente questa questione a partir di un tema che è, di fatto, un tema che ultimamente è stato discutito, un punto di incontro tra questioni urbani e questioni artistiche, che è il tema chiamato terrenvag, cioè è un termo coinato da un urbanista, che è Ursula Morales, ma a partire da observazione di trabali artistico e fotografico. O Ursula Morales percebeva una tendenza della fotografia contemporanea, della pittura contemporanea, in generale della arte contemporanea, una attrazione per terreni abbandonati, per terreni baldiosi, per lugares dove la città ha un processo di... ... 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 casual, flutuante, di adensiamenti e abbandoni dentro del territorio urbano come una caratteristica struttural della città contemporanea, non è necessariamente un defecto, ma come è qualcosa che deve essere pensato come un movimento, la città contemporanea è flutuante, che va esvaziando e preenchendo espacios continuamente. E, portanto, questo è un caso típico, in cui qualcosa che la arte che l'arte focò, che l'arte trò a tono, poi viene un pensamento di tipo urbanista, un pensamento che ha altri tipi di applicazioni. Ora, questo non significa che l'artista stiava procurando daquilo, che l'artista stiava preoccupato in stabilizzare nuovi padròi di pensamento urbanista. Quindi, io credo che vale la pena pensare, ma cosa che l'artista stia procurando? È perché questi due pensamenti si trovano, apesar di probabilmente parlare dei stessi espaci, ma non parlare delle stesse cose, in realtà. Recentemente ho avuto la possibilità di fare una exposizione, un po' centrata su questa idea, non si chiamava Lugar Nenhum, perché non queriam usare Terrenvagia, che era molto specifico, ma, in realtà, era solo Terrenvagia. E noi stiamo chiamando artisti brasiliani, che trovano, che trovano questo tipo di spazio, e che anche, credo che sia una cosa che ha in relazione, rimettano l'altro. Sono pintori che lavorano molto con immagini, sono tirati dal universo della fotografia, fotografici che lavorano con immagini modificati, e, portanto, che ha a ver con il processo della pintura, perché è un'immagine digital che è lavorata con un computer, con un pixel, quindi, al final, si può trasformare il tempo tutto. E noi stiamo insieme sette artisti, sono tre fotografici e quattro pintori, scusate, tre pittori e cinque fotografici, in realtà sono oito, che sono questi, che vi mostrò un lavoro per cada uno, solo per avere una idea. prima, il primo che era quello che stava fixo è da Anna Prada, questo qui si chiama Pella da Capira e da Marina Rangansi, va in fronte, questo continua a essere la Marina Rangansi, questa è una foto da Sofia Borges, due ragazzi che appontano per una piazza, per una piazza di arvore, questo è il Rubensmano, in realtà è un buraco di un concerto di una gradocia subterranea, c'è un po' questa sorpresa del fatto daquilo che sembra terra, in realtà è solo una finissima camata in cima di un basso. questo è da Lina Kim, sono immagini tirata da un exquartello dell'esercizio soviético, una ex-Alemanha del leste, un quartello abandonato, ha tirato diverse immagini. questa è una da Celina Yamauchi, e poi c'è una questione di un terreno in vaga, che non è necessariamente un terreno in scala urbana, può essere un terreno in vaga dentro di un quarto, dentro di un appartamento, che perdono un po' il senso del uso, o che sono inquadrati in modo di perdere questo senso e questo uso, di virare un'esercizio senso. È un appartamento di un conjunto habitazionale nel rio da Luisa Baldano. Chega, volta. Pera qui, per qui. Esos erano tutti gli artisti che, di qualche modo, fanno referenza a questi passi che perdono il senso, essenzialmente. Ora, anche, è stata una tese della l'exposizione, è che questa perdita del senso del senso ha un po' con una perdita del senso della immagine, in generale. Sono artisti che usano pittura e che usano fotografia, ma, in realtà, non ha più molto importanza di dire qual è la origine della immagine. In realtà, la gente può dire che questa immagine viene da una foto di cellulare, viene da internet, sono mostrato in alcuni casi, ma immagini sono tomate per i mesi artisti, demandano la presenza dell'artista nel luogo, questo non ha più importanza. In realtà, tutte le immagini perteneci a un flusso di immagini che è infinito, in cui si va pensando o che è preciso. E come il lavoro del fotografico è un lavoro digital, in realtà non ha una copia originale. Mesmo che il fotografico, per esempio, prende una immagine della internet, va modificando, creando immagini, ma se lui stesso toman immagini, va modificando il computatore, va creare un archivo, e questo archivo può essere modificato infinitamente. La verità è che la fotoanalogica può essere modificata, ma sempre ha un original, sempre ha un negativo che è un punto di partita. Qui, in realtà, non ha un original. Non si può dire che la foto, la foto, la fotografica, è originale della foto acabata, perché la foto acabata è generalmente la superposizione di diverse immagini, a partir di quali si crea la immagine finale. Quindi, il click, in realtà, è più un esbollo, come sia un esbollo per un pintor, che la immagine realizzata, la fotografia originale, che poi si può essere modificata. Portanto, ho una idea che la immagine è solo una cosa pinzata nel medio di un flusso continuo. La stessa cosa succede con la pintura. qual è la pintura, come la pintura parte da immagine, la pintura, di qualche modo, e anche, anche, abbora abbia un processo manual, che, portanto, remette a un... C'è un altro artista qui, non è passato, ma, infine, solo per dire, è il Rodrigo Andrade. C'è una immagine del Rodrigo Andrade. Come la pintura remette a un processo che può essere a partire da fotografia, può essere una modificazione a partire da immagine tratta da internet. Enfim, non c'è una immagine originale. E, portanto, questa idea a mezzo di un terreno baldio, di una definizione entre lo che è referente, lo che è immagine, è una cosa che ha a ver con la rappresentazione contemporanea, e, l'indipendentemente del fatto di affrontare terreni baldiosi, immagini di luoghi perditi, immagini di luoghi poco significati. Essa indefinição, essa vaguidão da imagem era algo che ha a ver também com a imagem em si e não apenas com o objeto, com o referente. Então, questo era un po' la tese della exposizione. Ma come dice il Félix, che stiamo sempre con la signora sentata al lato della storia della arte, e, in realtà, nella tentativa di capire un po' che questi artisti stavano procurando, la tendenza al critico è sempre di creare genealogia, di dove questo discorso, di dove questo negozio è come. È una delle referenze, e io credo che questo processo ha un certo interesse, anche che sia un po' randommico, lui stesso. È, ovviamente, un punto di partita classico per questa definizione del terreno vago, del interesse per un po' significativo, del lugar perdito, del terreno baldito, descampato. È una serie di fotos che Robert Smithson ha fatto in 1969, se non mi ricordo, che sono il monumento di Passaic. Il prende un ônibus, fa fotografare la sua città di Natale, che deve essere una città di un tèdio colossale, ancora oggi. Fui alla internet per procurare quali sono le gloriei locali, além, ovviamente, di Smithson, che, in questa altura, è la maggior gloria local, sei lì, un giurista del Supremo Tribunale Federal di 1938, una città di non interesse, nessun. Il fotografa, nel fin di settimana, justamente, un luogo più perdito, più abbandonato, se vai, in prossima, questi sono alcuni dettagli, una città di areia, una draga nel rio, può andare al prossimo. Un pneu, abbandonato nel mezzo del mato. E fotografa queste immagini con questa Matic 400, che sono le più vecchie, magari mi ricordo, ma è la macchina più idiota possibile. solo aveva fogo fixo, e aveva nubato e sole, e flecche, se non me engano. Quindi sono le primei cose che si vengono quando erano criança. Quindi non permette quasi nessuna decisione. lo che significa, lo che significa che, che, in realtà, così come era determinato l'objeto di questa foto, l'objeto fotografico è completamente indeterminato, perché si solo potessi fare clic. e accompagna, che, e quando descrive questi monumenti, lui anche fa le observazioni completamente apparentemente desencontrate, passa un carro, descrive il carro, compra il giornale, lei lea il giornale, descrive quei artigali che nel giornale, che si trascrano che si trascrano che si trascrano nella confezione della pellicola, tipo, la bulla. Questo sta tutto in un artigo, come se le cose entrasse di una maniera completamente disorganizzata, non intenzionale nel texto. Agora, questa cosa sempre tem truque, perché queste cose, questa non intenzionalità è sempre montata, è sempre construita di maniera che questo acaba revelando significati più profondi. E allora comecei a leggere con più attenzione il texto, e la prima cosa che il cita, il compra il giornale nella stazione di ônibus, e abri il New York Times e ha una coluna di critica di arte, e nella coluna di critica di arte c'è un critico che si chiama Canadei, che era odiato per la vanguardia, perché era un più conservatore, aveva un processo contro il canadei, un caro realmente odiato. E lui facia una recensione di una exposizione della Pintura del siglo XIX, in cui c'era una immagine che era la prossima, che è di un quadro che si chiama Paesaggio Allegòrica, è che gli che sono riprodotti nel artigo esattamente con grano, che dice un delicato grano cinza della impressione del papel quotidiano. Quindi non si chiama non si chiama bene la immagine. Si chiamata se quella arvore a esquerda è una arvore, è un penacho di fumace, perché nel giornale non si chiama non si chiama bene. Afinal, si immagina che questa immagine non ha nulla a ver con il contesto. Ma io ho chiamato che diablo di immagine era questo. Questa immagine è un quadro dipintato per Samuel Morse, che è un caro che inventò il telégrafo. E che, além di inventare il telégrafo, il Fabetto Morse, era professor di pintura nel New York University nel 1830. E questa è una paesagina allegorica, in realtà la luce funziona, non? Questo prédio è la fachata del New York University nel 1830, quando il pintò il quadro. E, in realtà, qui si chiama ilicone o qualcosa. qui c'è una paesagina mitològica greca, che seria la montagna delle musiche. Di fronte del New York University, e nel medio c'è questa bahia, come se fosse un terreno selvaggio, un terreno abandonato. E, ovviamente, nella intenzione del Morse, questo significava che era una specie di relazione tra la Università di New York e le musiche. E la cultura classica, il rinascimento del classico. New York come la nuova Grécia, che è una cosa che va continuando fino al século XX, questa idea del nascimento. Agora, per fare questo, è come se crei di nuovo un mondo edainico iniziale nel meio del Washington Square. Perché qui devia essere Washington Square. E, quando il quadro fu pintato, tutti conoscono la fachata. Agora fu fu destruito, ora ha una biblioteca lì, ma fu 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 destruito al final del século XX, del século XIX. e qui, questa lagoa, questo terreno descampato, è Washington Square. quindi, Quindi il fatto di aver mettere questo qui, con le foto di Dori Passaic, con le draghe, non è destituito il significato. È una situazione che fa un certo senso. Ma come il critico sta cominciando a virare terremi vaghi, sta cominciando a virare randommico, ho finito un po' approfondando questo pensamento. Evidentemente, con tutte le differenze, perché, evidentemente, Morse come pittor era un eccellente ingegnero. Se la pittura è feia, non ho mai potuto. Ma la sua referenza era la tradizione francesa Poussin, Claudio Lorraine, quella tradizione di pittura classicizzante del secolo XVII francese. E questo è Poussin. Questo è Poussin, questo è il pintor per valere. non è a toa che questo potrebbe avere un senso per Morse e indiretamente per Schmitt. perché, nel fondo, Poussin è il primo pintor del terremi vaghi. perché non si rappresentavano, non si rappresentavano i descampati. che si rappresentavano nella pintura classica, che era una scentista, sono i territori urbani, o, nel massimo, attraverso della jarella, che rappresentavano i campi cultivati, che rappresentavano la civilizzazione. Poussin è il primo, uno dei primi, o primo grande, che pinta espacos, che sono espacos desolati, deserciosi, longe da città. Città sta là nel fondo, la civilizzazione sta là. E, generalmente, le rappresentazioni, le rappresentazioni hanno anche un aspetto mitologico, sempre, ma anche un aspetto melancolico, fúnebre, questo quadro, in particolare, è la sepoltura della cinza di Foshone. Non ne ricorda che sia il personaggio, non ne ricorda che sia il personaggio, ma è un sepoltamento, che è questa figura qui, nel primo piano. Si stia mettendo le cinza, e c'è un personaggio espalhato qui. E, lo che interessa, è questo territorio abbandonato, che non è nello campo coltivato nel terreno urbano, che, di lungo, remette a una città, a costruzioni, che, sì, sarebbero un mondo civilizzato. O espaço del mito viene un espaço abbandonato, un espaço vazio. E questo è il momento in cui, di fatto, c'è chiaramente una separazione tra città, città, di cultura politica, di cultura scientifica, di cultura etica, è la arte, che resta solo il espaço, non è un po' qualcosa, ma un espaço di immaginazione, un espaço proprio. La arte è un luogo che non sta non è nemmeno conoscenziamenti obiettivi della scienza, nemmeno dentro delle attività pratiche, della politica, della morale, della religione. Ma una specie di un luogo, di un terreno vague, di un luogo indefinito, che è quello che va a comenzare a ocupare a partir della epoca moderna, che è quel luogo in cui le cose cominciano a prendere a fare sentire justamente perché perdono la funcione. e io pensi un po' questo, perché uno dei ultimi lavori del Nelson fu quello dei treni, che è il suo anche, dei treni da Moca. Sobre la questione dei 40 mil vagi abandonati nel Stato di San Paolo, perché erano desmontati, erano presi nei trilhi, non si mesi mai, che nasceram arvore dentro, stanno nel mezzo della floresta, praticamente, a questa altura. E c'era una un debate da Maria Antônia, molto interessante, in cui c'era Nabil Bundacchi, Regina Meier, che anche partecipato, io ho Zerzendi, che ho fatto il lavoro, e c'era due discussioni. O Nabil Bundacchi faceva parte di un consiglio per la discussione sui rischi di solito, come si libera di questo negozio. E poi, nel mezzo della conversa, io ho pensato se, magari, dal punto di vista della arte, come si libera di questo negozio, sarebbe come tombati, in realtà. Perché, in realtà, in realtà, erano tali significativi dal punto di vista della arte come in quel momento in cui erano abbandonati. Io ho ricordato che uno dei libri fondamentali della vanguardia artista del secolo XX, che è La Morfe del Breton, comincia con una locomotiva nella floresta, presa nella floresta. Abbiamo 40 mil, una abbondanza di Amorfu, una poligamia, è assurdo. È ovvio che questa non è una soluzione urbanistica, hai che tirar quel negozio, ma anche questo non è un problema per l'artista. Per l'artista, quello non è mai significativo. Come in quel momento, così come molte volte, tutti i architetti presenti mi perdoni, non è un predio così bello come quando sta nelle fondazioni, che è appena un buraco enorme. Ma è ovvio che non può finire nelle fondazioni. In realtà, stiamo procurando cose diverse, diciamo, in un certo senso. Ma, per l'altro, come l'artista ha questa funzione sempre di mostrare il reverso della medalha, l'altro lato della moeda, è giustamente per questo contatto che la relazione che sta sendo, in tutte queste iniziative del Nelson e del Ari, e può essere proveitosa. La peor cosa che che un'artista può fare è tentare si inturare, tentare essere utile, l'arte non è utile, assolutamente. La miglior cosa che può fare è creare problemi, io credo. Descobri che le cose hanno un altro sentito, anche dentro di una questione così abrangente e così importante come questa che sta sendo trattata qui. avevo questo lavoro del Ettore Zamora che fu mostrato in una exposizione in un incontro antecedente che è quella espressione di favela montata nella parete del museo, ovvio che non è la soluzione. Nem rappresenta un altro modello di moradia, non rappresenta nulla da questo punto di vista. È appena l'imagine, è appena la criazione di una suspensione di senti che è rica perché è rica perché non è utile, perché è un obra di arte, in questo senso. quindi la mia contribuzione era questa nella verità. Non ho ancora più per acrescentare. Grazie. Grazie.